Un operario di 54 anni, originario di San Marco Illamis, Angelo Longo, è la vittima dell'esplosione avvenuta ieri pomeriggio in una fabbrica di giochi pirici che si trova alla periferia di San Severo, incontrata a Gramiglia, sulla provinciale per San Palo di Civitate. Secondo i primi accertamenti, la vittima stava lavorando nel locale, dove avviene la miscela delle sostanze che servono per colorare i fuochi pirici quando c'è stata una violenta esplosione. Per il 54 anni non c'è stato nulla da fare, è morto travolto dalla deflagrazione del crollo del locale. Altri operai che erano al lavoro nella fabbrica sono riusciti a mettersi in salvo. Alcune di queste sostanze devono essere trattate con cura e non subire alterazioni di temperature di luce perché sono soggette ad autocombustione. Altre, come per esempio il clorato di potassio, che se mescolato con zolfo diventa una miscela fortemente esplosiva ed estremamente sensibile agli urti meccanici e alle cariche elettrostatiche. Anche il semplice avvicinarsi con un baglione di lana può causare un'esplosione. Sul poso sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggi, i carabinieri, gli agenti di polizia e alcune unità del 118. I vigili del fuoco, prima di poter far avvicinare qualcuno sul luogo della tragedia, hanno dovuto mettere in sicurezza tutta l'area evitando che le fiamme potessero raggiungere i locali dove erano conservati i materiali esplosivi utilizzati per confezionare i giochi pirici. Sull'accaduto, gli ispettori dello Spesal, il Servizio per la Prevenzione della Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, hanno aperto una inchiesta per capire se la ditta rispettasse tutte le normative in materia di sicurezza.